ciao ragazzi benvenuti aggiornamento delle 19 allora in pratica oggi abbiamo sistemato il devio lucide lantares perché era rotto e va bene insomma vi racconterò tutto più avanti all'interno del canale principale e oggi sono passati anche qui in agriturismo stefano e sarah giusto e se volete anche loro hanno un canale youtube che si chiama benza mood anche se non si dice così in inglese e niente dai vi lascio anche il link qui in fondo se riesco a metterlo e passate a dare un'occhiata il loro video va bene dai io vi saluto tutti quanti il padre speriamo che riesco a sistemare tutto va bene buona serata